Le delusioni della vita possono portarci a vedere solo cose negative per il futuro. Esprimiamo la mancanza di speranza e sminuiamo le nostre capacità, ci rifiutiamo di correre qualsiasi rischio, respingiamo opportunità di crescita, ci lamentiamo delle ingiustizie della vita e diciamo che niente di ciò che facciamo potrà fare la differenza in una particolare circostanza. Riconosci qualcuna di queste abitudini in te stesso? Se è così c'è una buona notizia. Il dottor Paul Meyer, uno psichiatra cristiano, disse le attitudini non sono altro che abitudini del pensiero e le abitudini si possono acquisire. Un'azione ripetuta diventa un'attitudine realizzata. Questo significa che con la pratica tu puoi sviluppare l'attitudine del vincitore. Ecco come. Primo, sia onesto nel tuo tentativo di vincere il pessimismo. Permetti a qualcuno che rispetti di farti notare quanto sei negativo. Secondo, limita la tua esposizione all'input negativo. Dato che probabilmente diventerai come le persone con cui ti accompagni. Cerca persone che fortificheranno la tua fede e non nutriranno i tuoi timori. Chi va con i sangi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Proverbi 13 verso 20. Terzo, fai del volontariato per aiutare altre persone che sono meno fortunate. Il servizio crea sentimenti positivi e ti dà un senso di valore ed è anche la cosa giusta da fare. Quarto, cerca il bene in ogni situazione ed esprimi sempre la fede che hai. Il presidente Henry Truman disse, il pessimista è una persona che crea difficoltà dalle opportunità. L'ottimista è chi crea le opportunità dalle difficoltà. Quando affronterai un problema oggi, vedilo come un'opportunità perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. l'ottimista lunga